Onorevole, cosa ne pensa dell'accordo franco-tedesco? Diciamo che è una forzatura, un modo di proporre vecchi schemi che andavano di moda all'interno della vecchia comunità economica europea, all'interno della nuova Unione Europea. Unione Europea ha 27 paesi, non ha due paesi. Capisco che la Francia e la Germania siano dei paesi che contribuiscono molto al bilancio comunitario, però questo non è che possa impedire agli altri di avere voce in capitolo. Le risorse che Francia e Germania mettono nel bilancio comunitario tornano spesso nei loro paesi. Quindi un asse privilegiato vuol dire condizionare le scelte di tutta l'Unione, condizionare le scelte dei governi e soprattutto condizionare le scelte dei governi più deboli che magari dipendono economicamente da questi paesi per quanto riguarda la produzione industriale o anche per quanto riguarda l'acquisto di titoli di Stato. Pertanto il nostro paese quali scelte sarebbe obbligato a fare se questo accordo andasse in porto? Ma diciamo che il ministro Frattini si è fatto adeguatamente sentire. Sicuramente non è possibile accettare che oltre a dei discorsi, se vogliamo, un po' più stringenti fatti tra Francia e Germania si possa andare. Quindi sicuramente delle conversazioni, definiamole così, amichevoli, ma non degli accordi scritti, non delle clausole magari sottoscritte da entrambi i paesi che vincono gli stessi a eseguire delle politiche che vanno a danni degli altri e da questo punto di vista noi dobbiamo stare molto attenti per evitare che questo accada. Tra l'altro sommando le economie ad esempio di Gran Bretagna e Italia siamo sicuramente a un livello pari almeno a uno di quelli dei due paesi che vogliono condizionare il futuro dell'Unione.